Raga, andiamo dritti, alla fine giriamo a destra e dobbiamo essere concentrati su queste cose. Secondo me se arrivi da qui, poi giri qua e vai dritto di qua. Vai, potremmo fare così. Ragazzi aspettate, secondo me la migliore cosa sarebbe andare qua e dopo tagliare a destra. Oh, basta, basta, l'allenatore sono io. Prendiamo i viali, via Ercolani andiamo dritti a Palados. Ok, ok. Grazie. Grazie.